Dopo i complimenti e le belle prestazioni, ora il Bari va a caccia di punti pesanti. Il bel gioco espresso a Padova non basta più a torrente dei suoi. I biancorossi nel turno infrasettimanale con l'Empoli vogliono la vittoria per risalire in classifica e cominciare a pensare in grande. Vorrei anche ottenere qualche vittoria, essere meno belli, ma ottenere qualche vittoria iniziando già da martedì con l'Empoli, però mi fa piacere. Ma questo è successo anche in altre occasioni, quindi sono contento perché è uno spot positivo per quello che stanno facendo i ragazzi e per il Bari. Quindi anche per me, ma devono essere anche orgogliosi i nostri tifosi di quello che stanno facendo la squadra, come si sta esprimendo su tutti i campi. Torrente sarà costretto a fare un po' di turnover anche perché sabato si torna in campo con il Livorno, senza però snaturare la formazione. Questa è una valutazione che devo fare, se risparmiare qualche elemento per la partita di sabato a Livorno. Ci voglio pensare anche in base alla condizione dei ragazzi che hanno giocato a Padova, valutare oggi come stanno, come non stanno. Nel senso che se qualcuno è stanco ha bisogno di recuperare perché abbiamo poi anche la partita sabato a Livorno.